41 emigranti arrivati questa mattina a Catania, un trasbordo particolare sta avvenendo a largo e una motovoletta li porta qui sulla banchina. Sì, una pilotina della Guardia Costiera sta facendo spola fra l'imbarcazione che rada e il porto. Questo inevitabilmente allungherà i tempi di sbarco. Sono scesi già 50 fra bambini e mamme. La situazione sanitaria, al di là di qualche rimedie masolare e qualche lipodimia che stiamo trattando, non è particolare. però ovviamente abbiamo parlato quindi con la Guardia Costiera e con la Polizia stiamo cercando di far scendere subito immediatamente le famiglie, con i familiari e i minori accompagnati visto che sono le vulnerabilità più importanti. Dopodiché andremo poi a controllare tutti gli altri. Ovviamente questo che abbiamo 50 step by step porta ovviamente ad avere un quadro clinico che si aggiorna man mano che ci sono. Al momento sono solo 50 quelli che sono sbarcati. La provenienza? Il camione di 50 è relativo, sono siriani però lo stiamo vedendo, però sicuramente saranno subsariani. Questo dato ancora non c'è stato possibile saperlo perché ribadisco abbia iniziato solo da pochi minuti lo sbarco. Ti è stato detto il perché di questa staffetta? Queste sono tutte informazioni che non ci riguardano quindi non lo sappiamo, però tutti quanti siamo concordi, quindi non solo noi che effettivamente questo crea un po' di problemi e stiamo cercando di risolvere i problemi in tal senso.